È il sedicesimo anno che Carigio partecipa a Invito a Palazzo, che è la manifestazione ABI, con cui le banche italiane il primo sabato di ottobre aprono i propri palazzi e i propri patrimoni artistici al pubblico. Noi tanti anni che apriamo la sede di Genova con i suoi tesori, perché abbiamo una pinacoteca ricchissima, oltre a una vista splendida sulla città da quindicesimo piano, che è sempre molto apprezzata da turisti e dai genovesi, e ogni anno, dicevo, proponiamo qualcosa di diverso di nuovo. Quest'anno, appunto, la mostra che si chiama Ritorno a Genova. Ritorno a Genova perché? Perché è un album che è stato ritrovato, è scoperto in quella miniera culturale che sono gli archivi alinari, ed è stato ripreso, non era mai stato né digitalizzato, né esposto al pubblico, ed è stato riportato a Genova ed è tornato a Genova per la prima volta. Le singole foto sono 90 fotografie all'interno dell'album, esprimono ognuna di loro dei punti di vista diversi. Chiaramente i locali possono anche rintracciare una storia, come dire, della trasformazione urbanistica della città molto interessante. L'inedito vero è proprio il contenitore, l'album, che è già di per sé un prodotto editoriale, possiamo dire, antelitteram, perché è frutto di una selezione di immagini e questo è un album molto particolare perché assieme si presuppone di committenza medio orientale, perché accanto alla data 1891 c'è la data 1307, che è quella utilizzata nell'impero ottomano nel calendario Rumi fino agli anni 20 del Novecento. I turisti dell'Ottocento che giravano l'Italia e riportavano il souvenir de voyage, cioè l'album ha questa funzione, spesso non è che commissionavano la fotografia, ma sceglievano una foto già fatta. Gli atelier fotografici dell'Ottocento erano attrezzati per questo, quindi per comporre un po' come l'album delle figurine, dove hanno a disposizione un po' tutte le figurine, possiamo dire. Dentro a queste foto ci sono addirittura alcuni dettagli scoperti mai visti prima. Adesso questa è una foto del porto, del porto in costruzione, dove si vede che le macchine che usano sono delle gru semoventi a vapore, rare, non ce n'è più neanche una, non esistevano le foto di queste. E qui ci sono i disegni costruttivi, ma qui abbiamo la foto di tre gru a vapore semoventi, una specie di carri armati. Abbiamo dei dettagli che è possibile estrarre da queste foto grazie al loro formato digitale che consente di ottenere degli ingrandimenti speciali.